Buongiorno cari amici, oggi il 27 luglio 2024 e vi saluto con il solito video dell'approfondimento dalla zona dell'operazione militare speciale oppure come ormai in molti chiamano questo conflitto dalla guerra tra la Russia e l'occidente collettivo sul territorio dell'ex Ucraina. In questo video vi racconterò le notizie più importanti che sono avvenuti nelle ultime 24 ore in prima linea e anche nelle retrovie del conflitto ucraino. Innanzitutto partiamo dai bombardamenti, ormai come sempre accade ogni notte ci sono scambi di bombardamenti con i droni, così di notte 21 drone UAV ucraini sono stati abbattuti sulla regione di Bryansk, 6 droni UAV di tipo aereo ucraini sono stati abbattuti nel cielo sopra la regione di Kursk. Nella regione di Lipetsk un drone delle forze armate ucraine è precipitato accanto a un edificio residenziale nel villaggio di Raccino nel nord della regione di Rostov. Due droni UAV sono stati intercettati e distrutti con l'uso degli apparecchi REB della guerra elettronica. Allo stesso tempo, sempre nella notte, i russi hanno colpito con i droni UAV Geran 2, i territori della regione di Odessa, regione di Nikolaev e anche Sume. Adesso si parla di alcuni incendi, esplosioni negli obiettivi militari dell'esercito ucraino. È caratteristico che ultimamente l'esercito ucraino non è più in grado di abbattere questi droni perché hanno finito evidentemente i missili di sistemi antiaerei, i loro curatori occidentali non hanno ancora fornito a loro aggiunta carica di questi missili, anche se nelle ultime dichiarazioni, negli ultimi rifornimenti, ad esempio che agli ucraini ha fornito la Germania e che sono stati dichiarati apertamente, oppure anche nell'ultimo tranche di aiuti statunitensi, c'erano parecchi missili per diversi sistemi di sistemi antiaerea che gli ucraini ce l'hanno, però per ora non li usano, evidentemente li tengono per i bombardamenti, per affrontare i bombardamenti più pesanti, magari con utilizzo dei missili da crociera. Comunque questa notte i russi non hanno avuto alcun tipo di ostacolo per i loro droni Geraint 2. Tutti i droni sono arrivati alla destinazione. Nella direzione di Kharkov, cari amici, ci sono feroci battaglie nel villaggio Volchansk. Dopo i tentativi falliti di ieri di attaccare le posizioni del gruppo Nord, le forze armate ucraine si stanno raggruppando, cercando di ripristinare le loro capacità operative. Nella zona di Staritz l'esercito ucraino ha intensificato gli sforzi per catturare l'insediamento e ha attaccato due volte le posizioni delle forze armate russe in un giorno, però senza ottenere alcun successo. Subendo le perdite gli ucraini sono stati costretti a ritirarsi, secondo gli osservatori dei servizi segreti militari russi, negli ultimi due giorni nella regione di Kharkov tra le truppe ucraine sono apparsi parecchi mercenari francesi. Evidentemente l'Occidente concentra i propri sforzi per evitare il crollo del fronte ucraino anche in questa direzione. A nord della parte orientale di Chalsofiar, le forze armate russe stanno espandendo la zona di controllo sulla linea del canale idrico Seversk e Daniaz Donbass a ovest di Kalinavka in direzione Toretsk che si chiama anche Zerzhinsky. Le forze armate ucraine stanno portando in battaglia le riserve nella speranza di fermare la spinta dei russi che ha distrutto la difesa ucraina in questa zona. Le forze armate russe avanzano nella zona di New York, Navagorovsk si chiama così sulle mappe questo villaggio, e anche vicino a Zhelezny che sulle mappe lo trovate anche con il nome di Zalizny e anche Kirovo. In direzione Pakrovski a ovest di Avdeivka le forze armate russe stanno sviluppando un'offensiva sul settore meridionale del fronte. Il gruppo d'assalto russo ha piantato una bandiera nella parte centrale di Jasnabrodovka. A nord le truppe russe operano con successo a ovest di Navasiolovka I, a sud-ovest fuori dell'insediamento Volce che tra l'altro stamattina è passato sotto completo controllo dei russi. Ora i riparti d'assalto russi si muovono verso il villaggio di Visiole. Le risorse delle informazioni ucraine caratterizzano la situazione come estremamente difficile per le forze armate ucraine ma per ora è prematuro parlare del vero e proprio crollo del fronte. Anche se gli ucraini fuggono delle loro posizioni comunque l'esercito di Kiev continua a porre una resistenza organizzata e feroce nonostante la perdita quotidiana delle posizioni in prima linea. In direzione di Yuzhna Donetsk ci sono battaglie vicino a Konstantinovka che si trova a ovest di Paraskovievka. A Krasnagorovka ci sono battaglie posizionali con l'uso dei droni e dell'artilleria. La linea di contatto qua rimane ancora invariata. Dalla direzione Vreme e del fronte Zaporogia giungono periodicamente segnalazioni sull'intensificazione dei combattimenti mentre la linea del fronte oscilla leggermente a favore dei russi. Le risorse dell'informazione ucraini indicano che l'esercito russo sta accumulando grandi forze per un attacco a Guliai Pole. Nessun cambiamento significativo a direzione di Kherson come su tutto il fronte la questione più acuta rimane alla fornitura alle unità operative in prima linea dei droni dotati di termocamere oggettivamente necessarie alle unità operative. Quattro persone tra cui tre bambini sono rimaste ferite nel villaggio di Maslovka nel distretto di Novakakovsky di regione di Kherson a causa dei bombardamenti delle forze armate ucraine che usano droni per colpire la popolazione locale utilizzando come anche in altre regioni questo approccio terroristico contro i civili. Nella regione di Belgorod a tarda sera il villaggio di Backovka e distretto di Belgorod è stato colpito dal fuoco dell'artilleria delle forze armate ucraine, una donna è rimasta ferita e un'azienda agricola è stata danneggiata. La città di Shebekeno è stata colpita dal fuoco dei razzi reattivi ucraini ma per fortuna non ci sono state vittime. Le aree di confine sono sotto costante attacco da parte dei droni FPV ucraini. Nella regione Kursk l'esercito ucraino sta distruggendo le imprese agricole e industriali e le impianti di fornitura di energia elettrica usando i droni FPV difficili da intercettare e da abbattere. L'intera zona di confine russo-ucraina è sotto costante attacchi terroristici da parte delle forze armate ucraine. Nella regione di Donetsk negli ultimi 24 ore non ci sono non sono registrati i bombardamenti dell'artilleria ucraina. Evidentemente le sconfitte pesanti subite dai riparti ucraini in questo settore negli ultimi giorni stanno causando le difficoltà agli ucronazisti nell'applicare le azioni terroristiche. Comunque sicuramente torneranno a colpire e non smetteranno di farlo finché non saranno definitivamente sconfitti. Queste sono le ultime notizie dalla prima linea delle retrovie del conflitto ucraino. Io come sempre alla fine dei miei video vi invito di approfondire le informazioni che vi interessano, le informazioni che il nostro mainstream occidentale, in particolare quello italiano, non condivide con voi per via di censura, per via di speculazione che di solito i nostri giornalisti fanno con l'informazione. Sul mio canale privato Telegram io condivido moltissime informazioni interessanti che provengono da tutto il mondo, non solo dall'Ucraina, le informazioni che non vengono riportate dai nostri giornalisti, dal nostro mainstream. Quindi se volete aprire un po' la vostra visuale e in maniera obiettiva raccogliere le informazioni che non troverete sulla stampa occidentale, vi invito di fare abbonamento al mio canale. Il link per abbonamento si trova nella descrizione di questo video a un prezzo modesto di un caffè al mese. Voi ogni giorno avete un continuo approfondimento delle notizie, articoli, analisi. Poi io ho anche ultimamente iniziato a condividere sul mio canale i documenti un po' più complessi, c'è una grande raccolta di diversi lavori, documenti che io avevo scritto preparando diversi libri di geopolitica e se vi interessano le tematiche ad esempio legate alla storia dell'Ucraina, all'apparizione del stesso concetto di nazione ucraina oppure le questioni legate all'approccio storico dell'impero russo con altri paesi circostanti, come si sono sviluppate le situazioni in quella zona, ma anche altre tematiche. Io scrivo molto sull'Africa, sul mondo multipolare, sulla geopolitica in generale. Tutti questi lavori io pubblico sempre sul mio canale in forma dei documenti pdf, c'è un'enorme quantità di questi documenti disponibili per i miei abbonati, quindi tranquillamente potete andare lì e leggere qualsiasi approfondimento su tematiche più disparate, questo sicuramente vi potrà aiutare ad aprire la vostra visuale su ciò che succede realmente nel mondo, su ciò che è accaduto, per evitare di essere vittima della manipolazione anglosassone, perché come voi sapete l'Italia essendo un paese occupato militarmente delle anglosassone subisce anche una feroce, terribile dittatura dal punto di vista di informazione, quindi per evitare questa dittatura, per uscire fuori è necessario informarsi. Io vi invito di fare sul mio canale privato telegram, ripeto il link per abbonamento si trova nella descrizione a questo video. Se volete sostenermi qua su YouTube vi invito di iscrivervi al mio canale, commentare i miei video, condividere i miei video con i vostri amici, vi ringrazio per la vostra attenzione, per le vostre preziosissime opinioni, per i vostri commenti, tutto questo è molto importante per me, per il mio lavoro qua su questa piattaforma online. Vi mando un forte abbraccio fraterno e vi voglio bene.